Vuoi partecipare alla festa di Patti? Allora al cinema devi esserci anche tu! Il 5, 6, 7 ottobre canta, balla, gioca con il mondo di Patti! Vestiti da divino o popolare e diventa protagonista di un evento esclusivo! Ti aspettano tante sorprese! E il musical più bello del mondo? In versione cinema! Una cosa mai vista! E allora, cosa aspetti? L'appuntamento è al cinema vicino casa tua il 5, 6, 7 ottobre! Vi aspetto al cinema per festeggiare insieme! A presto! Trova il tuo cinema su nexodigital.it e prenota il tuo biglietto per la festa! Nexodigital. Intrattenimento alla massima potenza!